Sto provando a giocare al gioco con il nuovo controller che ho comprato Vediamo com'è, questo qua vuole parlare, vediamo Andiamo, puoi dirmelo, qualcosa ti preoccupa? Quel ragazzo, con chi sta parlando? Dimmi che cosa ti affligge, non siamo fatti tutti di pietra Neku, dagli un po' di spazio Tanto non mi può vedere, proviamo a vedere i pensieri, poverino Oh povero signor Maoi, ti sente incastrato tra l'incudo e il martello Si vede, la gente ti ha messo su un piedistallo, gli uccelli ti fanno la cacca addosso, che vita Ok, beh non era quello che mi aspettavo E tu? Un altro ragazzo in rosso, allora siamo vicini a Hai una barriera Lo sapevo Quindi dobbiamo soltanto battere qualche rumore, giusto? È così lenta, devo fare tutto da solo Neku, dove stai? So cosa sei Liberate la statua dalla maledizione, sei un demone Non sono pagato per chiacchierare, giocatore Che spreco di tempo Liberate la statua dalla maledizione, è uguale alla missione Ma Chico è oltre la barriera Aspetta Neku Per favore, basta allontanarti da me Ehi Ah, il mio nome è Shiki Sei capace di dire Shiki? Ehi, vedo un'altra statua Ah Ah già, il Moyai Come sull'isola di Pasqua Ma cosa ci fa qui il Maoi? Moyai con le Y Non ho mai pensato da dove potesse venire Pensi che sia maledetta? Non lo so, a me sembra normalissima E allora scopriamolo Secondo me Non è quella che cerchiamo Hai ricevuto la Coop Al menu principale La modalità Coop ti permette di usare i Joy-Con Per portare un amico nella mischia Ah, ecco perché l'altra volta non funzionava Così ha senso Shiki Coop Ora puoi giocare come Shiki nella modalità Coop Dai un occhio allo stile di gioco nella Coop menu Ma quindi potrei usare Due controller per controllarla io Shiki a questo punto? Secondo me sì Ovviamente c'erano C'erano nemici da prendere Ah, questo è il menu Coop Perfetto Livello 2 su 2 Che vuol dire 2 su 2? Ah, posso diminuire il mio livello Ah Se abbasso il livello aumento il tasso di ritrovamento Vabbè È interessante Vediamo, proviamo Prendere solo questi qua gialli Ma io mi ricordo che si potevano prendere più di uno Almeno nella versione di esse si poteva Becca sto lupo Diamo gli fuoco Beh in realtà Come ho detto È più giocabile di molti altri giochi Che ho già giocato Su altre piattaforme Non è così terribile Anzi In realtà è Abbastanza fattibile Certo Devi giocare Tutto Pressato con la mano Però in realtà Non c'è nessun problema Soprattutto con un controller del genere Che c'è più spazio Secondo me è fattibilissimo Rumori Deve essere la maledizione Forse se eliminiamo tutti quei rumori Possiamo cancellarla Allora Appunto abbiamo detto I rumori Ecco qua Togliamo quelli gialli Però il polso si effettivamente fa male Devi trovare una posizione comoda Secondo me Per giocartelo Diamogli fuoco Vai via Stupido Lupacchiotto Ora vi do fuoco a tutti Beccalo Shiki Porca puttana Becca quel loop Sti maledetti schifosi Che continuano a muoversi Allora Mi muovo anch'io allora Non posso usare la spilla dei Shiki Eh che cazzo Maledetta Sparagli Colpisci lo Shiki Ok Una è andato Perfetto Devi trovare La qualità di spille giuste Secondo me Devi trovare il tipo di spilla Più adatta Al tuo stile di gioco Ecco fatto Sì effettivamente Diventa un po' difficile A una certa Però in realtà È fattibile In realtà È fattibilissimo Obiettivo raggiunto Quindi il Mojai Era posseduto dai rumori E dovevamo sconsionarlo Per scoprirlo Quel ragazzo in rosso Già Se n'è andato Ma ora Dovremmo poter passare liberamente Abbiamo liberato la statua Dalla maledizione Significa che abbiamo Completato la missione No Ovviamente È servito solo Ad attraversare la barriera Vedi Il mio timer Continua a scorrere Già Anche il mio Beh Almeno la barriera è scomparsa Andiamo verso quella Chico Il nostro vero obiettivo Neku Ne parli come se non l'avessi mai sentito parlare Esatto Cos'è Chico? Cosa? Come puoi vivere in questo paese Se non conosci Chico? Ci vivo Ricordi dove ci siamo incontrati ieri C'è la statua di un cane nella piazza Quella è Chico Ora io ho una domanda Come hai fatto a capire come superare la barriera? Non di nuovo Va bene Come non detto Dirigiamoci da Chico E abbiamo ottenuto 500 yen Aggiungi un ulteriore spazio alla spilla Yes Apri il menu delle spille Ottimo Apriamo il menu Tra l'altro Coop Fammi vedere Ah ti fa vedere i tipi di comandi Pugno Mr. Meow Tocca i nemici Colpisci uno spazio vuoto Trascina su uno spazio vuoto Ma sai che io ti dico Quasi quasi ci provo Quasi quasi ci provo Posso farlo? Ok Devo per forza aggiungere altro controller Allora Allora Controller uno Attivato Controller due Attivato Vediamo se è possibile giocare in due Da solo Ok Proviamoci Proviamo a sto punto Non si sa mai Magari Magari è bello Proviamo una battaglia in due Vediamo Se è fattibile Oddio Aspetta Porca puttana Allora È difficile Da controllare Perché Non Non è sensibile Come dovrebbe No 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 Giocare In due Non è fattibile Non è fattibile Cioè non da solo A meno che Provo a fare una magia Fermi tutti Voglio provare a mettere Entrambi i controller Qua sopra Vediamo se è fattibile così In teoria Li controllo Entrambi no Ecco Guarda Adesso Ecco Così in teoria Diventa più difficile Ma Non è Non è impossibile Non è impossibile In realtà Facendolo così Io proverei Cento iene Grado A Grado A Interessante Proviamoci Proviamoci Se poi muoio Lasciamo perdere Sono grosso io Quella ragazza Ha proprio L'ingrediente Di cui ho bisogno Ho fame Siamo arrivati? Ci siamo E anche molto in anticipo Qui è dove Ci siamo incontrati ieri Quindi I due luoghi Sono connessi Ok Liberiamo A Cico Dalla maledizione E come pensi Di farlo? Beh Forse potremmo cancellare i rumori Nelle vicinanze Oppure Senza speranze Ecco perché non posso contare Su altre persone Sono tutti senza speranza Beh Controlliamo se c'è dei rumori Non ci sono rumori Attorno alla statua Hai usato la scansione E allora Hachiko non è maledetto E se fosse la statua sbagliata Eh? Ehi guarda Neku Cavoli Non abbiamo tempo Per cercare un'altra statua Terra Chiama Neku Che c'è? Hachiko ha qualcosa che non va Del tipo? Non vedo niente Non sono sicura Mi sembra diverso Da quando l'ho visto All'Hachifest E allora Guardiamo meglio Con gli occhiali Ok Forse Boia Mi sembra diverso Non lo so Mi sembra diverso Qualcosa non va di sicuro Quando l'ho visto All'Hachifest Hachiko era diversissimo Cerchiamo più informazioni Quindi Questa maledizione Sento che qualcosa non va Beh Prenditi il tempo che ti serve Perché Beh Insomma Ne abbiamo così tanto Nel frattempo Darò un'occhiata Cosa facciamo Neku? Guarda meglio Devo guardarlo più davvero Vicino Hachiko Sembra meno Adorabile Ah guarda Focus Eh Qua c'è qualcosa Aspetta È il maialino Questo lo conosco Ti dà un sacco di punti Esperienza Se non ricordo male Dovrebbe darti un bel po' di punti Questo Se non ricordo male Vediamo 500 Yen Grado Stella Ovviamente Eh sì Guarda Mi ha dato un bel po' di esperienza Hachiko Anche Hachiko Sembra preoccupato Se solo potessi ripulire le macchie sul suo cuore esausto Perdona Miachi Lo sapevo che c'era qualcosa che non andava Però non me la faceva toccare Quindi Ehi Hachiko Sembra giù Ultimamente Non pensi Ma perché è fissato con le statue Deve essere come te Alla deriva In un mare di angosce Se solo potessi strofinare via tutto il suo dolore Si sentirebbe meglio Che il suo cuore si illuminerebbe di nuovo Strofinare via il dolore di Hachiko È Una cosa stupida Ehi Neku Forse dovremmo provarci Provare cosa? A pulirlo Hachiko mi sembrava un po' sporco E ho visto uno strano simbolo su di lui E se fosse il sigillo maledetto? E se qualcuno si fosse soltanto sbizzarito con un indelebile? Beh Se proprio è l'unico indizio Va bene Proviamoci Ok Va bene Torniamo da Hachiko E andiamo a ripulire la statua Strofiniamo Hachiko Cicchi 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 Quindi? Ok Neku Strofiniamolo con tutte le nostre forze Ma così non attireremo Come dire L'attenzione Tanto siamo invisibili Siamo morti no? Non preoccuparti Nessuno ci guarda E anche se qualcuno ci vedesse Ci vedesse accarezzare un pezzo di roccia? Va bene Se proprio devo Cicchi 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 Ok Neku Strofiniamolo con tutte le nostre forze Ovvero io faccio il lavoro e tu mi guardi Questo intendi Cicchi Aspetta Ecco qua Batte batte sul cane Hai detto qualcosa Neku? No Sai Mi sembrava che più strofinassimo Meno questa statua assomigliasse da Chico Basta brontolare strofina Non sto brontolando Aiuto Un lupo del cazzo Neku qualcosa è uscito dalla statua È un lupo grosso grande cattivo Tre lupi grossi grandi cattivi Dagli fuoco a sti stronzi Ok comunque Come ho detto È un po' Infattibile Giocare in due da solo Per lo meno Ecco qua Ehi 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 Che dolore Aspetta che Probabilmente giocare Col Il touchpad È tutta altra storia Ma Giocare così Devi Solo abituarti Devi solamente abituarti Vediamo Secondo me ci No abbiamo preso un A Incredibile E il fulmine È già al suo massimo potenziale Colpi consecutivi Dieci combo incrociate Nessuna spilla caduta Dannazione Potenziamento difesa Il sticker di Shiko aumenta la difesa Quando è un partner a Shiki Ovviamente Oh niente più timer Neku ce l'abbiamo fatta Il timer è scomparso Allora i rumori possedevano il Moyai e anche Hachiko E la nostra missione diceva di liberare entrambi Ehi Neku Sì? Prima hai detto di non avere bisogno di amici Già E allora? Beh Non avresti potuto risolvere l'enigma di Hachiko senza di me Cosa? Che cavolata Se io non avessi notato il disegno L'avrei notato io Però fa niente Potremmo non aver mai completato la missione Ascolta Stalker Non ho bisogno di te per risolvere uno stupido indovinello Va bene Comunque se me lo chiedi Ah che scocciatura Cosa? Ancora voi due? Eh? Quella voce Eri al 104 ieri Sei quel demone Oh è la tipa finalmente Beh scusate se faccio il mio lavoro Eh ieri non l'abbiamo Eh ieri sì L'altro giorno l'abbiamo vista Allora è vero Un demone È lei che assegna le missioni Voi mi dovete una ciotola di ramen Per non essere scomparsi come invece doveva essere Questa ragazza è un demone? Che c'è? Troppo spaventato per rispondere? Bene Questo dovrebbe farti tornare alla voglia di parlare Devo combattere contro di te O contro i tuoi piccoli ombretti No contro Uh un porco spino Aiuto che dolore Magistrale Aspetta che do fuoco a questi Lupacchiotti Becca questo No non ho più fuoco Perché non va il fuoco Ma porca Colpisci Perché non va il fuoco Maledetto Ma porca Il fuoco per qualche motivo Non va e neanche shiki combatte Vabbè io continuo a colpire Il porco spino Che tanto Male Sicuramente gli fa E il fuoco non va a cazzi Cioè va a cazzi suoi oggi Almeno il porco spino è andato Il fuoco per qualche motivo Non voleva proseguire Eh that was great Se solo facessi quello che ti dicevo E grado A Perfetto E abbiamo portato al massimo Sia il proiettile Che il fuoco Fuoco che Tra l'altro andava a cazzi su E ripetiamolo Potenziamento attacco Brava shiki Soffio di ghiaccio Sfera un fendente verso l'alto Uno spazio vuoto Ok Va bene E questo qui ci serviva Per la crescita del personaggio Aia Questi rumori sono più forti Degli altri Wow Cioè sei più forte Di quello che pensavo Ma non ho ancora finito Di giocare Il prossimo rumore Sarà l'ultimo Vediamo No Non posso reggere per molto Ho soltanto una possibilità Eh? Devo sconfiggerla Ti prego Dimmi che non hai intenzione Di combattere con me Ah 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 Ma quanto sei stupido Non potrei mai vincere contro un demone Va bene allora Sono pronta Tanto mi stava annoiando Cosa? Ha cancellato i suoi rumori Sembri sorpreso? I rumori Sono dalla tua parte Beh che schifo Non mettermi sul loro stesso piano I rumori sono soltanto pedine Proprio come voi giocatori Ah 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 non posso fargliela passare liscia Ma sono in grado di fermarla Non so quanto possa essere forte Non importa Devo tentare Non farlo Neku È meglio che non l'affronti Potrebbe cancellarti in un secondo Oh No Cosa? Ti arrendi? Che noia Non puoi deludermi in questo modo Guastapeste Però adesso che ne sono in vena Forse dovrei finire il lavoro Eh? Ma non posso farlo Eh? Beh questo è un bel dilemma Ah Ci sono Proviamo qualcosa di divertente Una sfida bonus soltanto per te Se la completi far uscire dal gioco dei demoni Lo Lo farei davvero? Ci puoi scommettere È un buon affare no? Quindi dai Che ne dici? Una via d'uscita Neku non farlo Non ascoltarla Tu Là dietro Taci Allora Ci stai o no? Ci sto Neku E vai Così ti voglio Ora cominciamo Oh Dimenticavo Se fallisci Ti cancello Cosa? Grazie al cielo Le regole sono molto semplici Hai un minuto Per cancellare quella ragazza Cosa? Cancellarla? Già Puff Caput Facile no? Fai finta che sia solo un rumore E bam Praticamente Cosa fatta? Va bene Sei pronto? Via Aspetta Maledizione Mi sta chiedendo di uccidere una persona Non posso farlo Ma se non lo faccio Neku Ovviamente questo è un trucco 30 secondi Sei ancora indeciso? Allora ti darò un incentivo Quella ragazza È una spia dei demoni Cosa? Una spia? Cosa stai dicendo? Grazie per averci fatto rapporto così spesso Non ce l'avremmo fatta senza di te Taci Non mentire Neku Si sta inventando Il tuo telefono Perché sei sempre con il telefono in mano? Eh? Oh Stavo soltanto Facendo la spia? Non è molto brava a nasconderlo Non sono una spia Lo giuro Adios E grazie per aver giocato 10 secondi Sei tu la star ragazzino Fai le cose a modo tuo Cosa stai aspettando? Fai quello che ti verrebbe naturale Salvati E al diavolo tutti gli altri Giusto? Non farlo Neku Non uccidermi Devo farlo Col potere della forza Adesso Star Wars Non mi uccidere Io devo Poverina Shiki In questa parte Dannazione Guarda Star Wars In mezzo a Shibuya Don't Kill Me Chapter Closed Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.